Siamo a Milano in una giornata importante in cui si svolge la quarta edizione del premio Merck in Neurologia che ha ottenuto il patrocinio della Società Italiana di Neurologia e che quest'anno ha avuto come tema centrale il miglioramento del benessere psicofisico della persona con sclerosi multipla attraverso l'uso della tecnologia digitale. Conosciamo subito i vincitori e i protagonisti della giornata. Il progetto MS Plus U è un progetto che è nato assieme alla mente del professor Paolo Manganotti, direttore della clinica neurologica e professore di neurologia dell'Università di Trieste, per trovare il modo di aiutare le persone con sclerosi multipla a combattere i sintomi caldo correlati, sintomi che sono presenti molto spesso nel 60-80% delle persone con sclerosi multipla e che hanno un forte impatto sulla loro qualità della vita. Il sistema MS Plus U è un'applicazione mobile che sarà disponibile principalmente per Android ma in futuro anche su tutte le altre piattaforme che attraverso l'utilizzo di parametri individualizzati e un algoritmo specifico potrà stimare il rischio di temperatura elevata e quindi di sintomi caldo correlati. Con questo il paziente riceverà delle informazioni che serviranno proprio a evitare che quei sintomi provocano degli effetti negativi sulla loro salute, combatterli e possibilmente annullarli del tutto e quindi poter avere una vita all'aria aperta e in condizioni che si fanno sempre via via più impattanti, libera, felice e priva di fatica. Ho vinto il premio Merck in Neurologia per il progetto Mind4MS. L'obiettivo di questo progetto è quello di migliorare il benessere psicofisico delle persone con sclerosi multipla attraverso la creazione di un percorso di mindfulness che i pazienti potranno effettuare prevalentemente a domicilio ed in autonomia. Questo sarà possibile grazie all'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi che permettono di leggere in maniera non invasiva segnali corporei che sono espressione dello stato di tensione o rilassamento. Quindi diciamo grazie all'aiuto di questi strumenti inizialmente guidati dallo psicoterapeuta e poi successivamente in autonomia le persone impareranno a riconoscere i segnali che gli manda il proprio corpo e attraverso la pratica della mindfulness ad aumentare il loro senso di benessere psicofisico. Inoltre molto importante attraverso un'app connessa al dispositivo potranno interagire con i propri curanti e quindi condividere gli obiettivi raggiunti e fissare nuovi traguardi ma anche attraverso la creazione di una community virtuale interagire e comunicare con gli altri pazienti che partecipano al percorso in modo da condividere le esperienze non solo legate al progetto ma più in generale al vissuto legato alla loro malattia. Oggi sono stati consegnati i premi ai due vincitori del premio Merck quarta edizione che aveva l'obiettivo di finanziare due progetti di ricerca sulla scherosi multipla finalizzate al miglioramento della qualità di vita dei pazienti utilizzando tecnologie innovative. I due progetti che la Commissione ha ritenuto di finanziare peraltro all'unanimità sono uno che riguarda le problematiche della regolazione termica nella scherosi multipla che sappiamo essere alterata, i pazienti peggiorano nei loro sintomi quando aumenta la temperatura corporea, è stato finanziato un progetto che valuterà con delle apposite app l'aumento della temperatura corporea dei pazienti ma darà anche dei consigli di come risolvere questo problema meno temporaneamente. Il secondo progetto riguarda l'aspetto di mindfulness, quindi la terapia cognitivo-comportamentale e di nuovo qua ci sono dei device, degli strumenti che permettono di informare il paziente sulla propria contrazione muscolare, sull'attività EIG, sulla frequenza del respiro, sulla frequenza cardiaca in maniera tale che il paziente possa controllare questi eventi e potersi concentrare sul presente, su se stesso e su questo tipo di terapia cognitivo-comportamentale. Quarta edizione del Premio Merck, un'azienda che vuole essere paziente centrica deve lavorare a iniziative come questo. Non soltanto quindi l'azienda deve sviluppare dei farmaci sempre più efficaci e più sicuri per il paziente, ma sviluppare una serie di servizi che possono essere a supporto dei basoni dei pazienti e dei loro cari. In tutto questo l'innovazione tecnologica digitale svolge un ruolo chiave per l'abbattimento di queste barriere di pazienti effetti da sclerosi multipla. In questi quattro anni abbiamo avuto quattro edizioni sempre con progetti ben specifici, un viaggio che continua ad effettuarsi grazie alla nostra partnership con le associazioni scientifiche e soprattutto con l'associazione paziente che ci permette di identificare la realizzazione di progetti come questi.